Unità di crisi ai sindaci, a scuola più controlli, da oggi in classe anche le medie, si rivedono gli assembramenti davanti agli istituti, allarme della regione e nel giorno delle proteste degli studenti il sindaco di Benevento avverte pronto a chiudere tutto. Ancora allerta meteo, paure e danni in campagna, prorogato l'allarme fino alle 6 di domani mattina sulla parte meridionale della regione, fiumi in piena nell'area del Sele, a Sassano, famiglie salvate con il gommone dopo l'esondazione del Tanagro. A Napoli nuova voragine. Covid, contagi al 9%, morto prete anti-clan, risale la curva dei contagi in campagna, 20 vittime, tra cui anche il parroco anticamorra di Ercolano, Don Raffaele Falco. Sul fronte vaccini, brusco rallentamento dovuto al calo delle consegne da parte di Pfizer, si faranno solo i richiami. Covid, SOS per i giovani, pochi casi in carcere, sono 38 i positivi in provincia di Avellino su 577 tamponi analizzati nelle ultime 24 ore. Un decesso al Moscati, si tratta di una 95enne, preoccupa la situazione in alcuni comuni per i contagi tra i giovani, sotto controllo invece il carcere di Bellizzi. Sagno, altre vittime, focolaio in questura, a Benevento ancora tre decessi per Covid e contagi in aumento, 13 poliziotti, risultati positivi. Intanto è polemica per l'opelia di un parroco che a Padule ha utilizzato espressioni forti contro scienza e vaccini. Pompei è riaperto oggi l'Antiquarium degli Scavi. Il museo restituito ai visitatori del sito archeologico racconta la storia di Pompei dal IV secolo a.C. fino all'eruzione del 79 d.C. Il direttore Osanna assicura ogni oggetto racconta la storia incredibile di questa città. E questi erano i titoli di stasera ben ritrovati con l'informazione di 8 Channel News. In apertura le scuole tornano in classe anche le medie e si rivedono gli assembramenti all'esterno degli istituti scolastici. L'unità di crisi invita i sindaci a intensificare i controlli e a far rispettare i protocolli di sicurezza, ma tra i genitori serpeggia ancora preoccupazione. Vediamo. Con il rientro in classe anche delle medie, 181 mila l'unico involto in campagna, iniziano a rivedersi scene di assembramenti davanti agli istituti scolastici. Circostanza che non è sfuggita all'unità di crisi, da qui l'invito ai sindaci a predisporre mirati servizi di controllo da parte delle polizie municipali, in particolare nelle fasi di ingresso e uscita degli studenti dai plessi. La regione ricorda che occorre mantenere alta la guardia contro i contagi e che la situazione generale deve assolutamente invitare tutti al rispetto dei protocolli di sicurezza e in generale ad osservare comportamenti prudenti e responsabili. Due scuole dell'infanzia sono state chiuse nel frattempo a Pompei per altrettanti focolai e non riapriranno prima di una settimana. Molti primi cittadini oggi hanno preferito la linea prudente, non riaprire, tutto rinviato per esempio a Teano, Mercogliano, Nusco, Airola e Olevano sul Tusciano. E tra i genitori serpeggia ancora tanta perplessità su un effettivo ritorno in sicurezza. Il fatto di stare sempre chiusi dentro, la preoccupazione che hanno vissuto è un qualcosa che si porteranno comunque dentro. Un po' di preoccupazione c'è. Il timore c'è sempre purtroppo, la certezza non c'è della sicurezza assoluta. Avrebbero potuto lasciare la scelta di chi voleva andare in presenza e di chi voleva stare a casa, per vari motivi, anche e soprattutto per riguardare la salute di chi è debole alle difese monetarie basse. Beh, emozioni miste. Da una parte era più comoda la didattica a distanza, dall'altra aveva i suoi difetti. E oggi ci sono state manifestazioni in tutta la regione degli studenti, delle superiori, in mobilitazione per un rientro in classe sicuro. A Napoli proteste dinanzi al Palazzo Santa Lucia. A Benevento assembramenti e caos e Mastella minaccia. Così chiudo tutto. Maria Teresa da Lucia. Rientro in classe tra proteste e polemiche per gli studenti delle scuole medie della Campania. A Benevento qualche assembramento dinanzi all'Istituto Pascoli per la misurazione della temperatura ha portato il sindaco Mastella ad intervenire, confermando la linea dura. I vigili urbani mi dicono che fanno fatica a contenere la calca, ha scritto il primo cittadino. Se continua così le scuole verranno di nuovo chiuse. Mi auguro e chiedo a tutti la massima collaborazione e grande responsabilità. A Salerno in Piazza Malta il coordinamento scuole aperte torna in presidio per chiedere maggiore sicurezza. Come coordinamento scuole aperte Salerno abbiamo sempre chiesto una scuola sempre più sicura, non solo per l'edilizia scolastica che come sappiamo è una problematica atavica del nostro territorio, ma anche in sicurezza riguardo anche l'emergenza Covid. Tutto sommato il rientro è stato abbastanza tranquillo, non ci sono stati assembramenti, i genitori hanno accompagnato i ragazzi e si sono immediatamente dispersi. È logico che è molto più comodo tenere le scuole chiuse perché questo ti permette di non intervenire sui trasporti, sugli spazi, sugli organici. E sono tornati a mobilitarsi a Napoli come a Benevento gli studenti degli istituti superiori contro la DAD e per un nuovo esame di Stato. Vogliamo tornare a scuola, siamo stanchi della DAD che come ripetuto più volte è uno strumento classista che non permette l'apprendimento. Dei ragazzi che hanno passato un anno intero quasi completamente in didattica a distanza in DAD non possono ovviamente sostenere un esame di Stato che sia come un esame di Stato dato a dei ragazzi che hanno fatto solamente anni in presenza. Cambiamo argomento, assalto da film questa mattina a Melito di Napoli dove alcuni malviventi armati con il volto travisato hanno assaltato un furgone portavalori. L'agguato si è verificato in corso Europa, a pochi passi dall'ufficio postale i malviventi armati con mitra e fucili hanno minacciato le guardie giurate che si trovavano all'interno del portavalori. A uno dei vigilanti sotto la minaccia di un fucile è stata sottratta anche la pistola d'ordinanza. Nessun ferito durante l'assalto ma i malviventi sono riusciti a impadronirsi del furgone portavalori facendo perdere le loro tracce e dileguandosi con un bottino che si aggira sui 50 mila euro sul posto ai carabinieri della compagnia di Marano che hanno avviato le indagini. E il maltempo non allenta la sua presa sulla campagna, prorogata l'allerta gialla fino alle 6 di domani mattina sulla parte meridionale della regione a Sassano. Famiglie salvate con il gommone dopo l'esondazione del Tanagro. Lanzilli. Si preannunciano altre ore di passione sul fronte meteo per la campagna. Vento forte, gommareggiate sulle coste e disagi nelle zone interne. La protezione civile ha prorogato l'avviso di criticità gialla sulla parte meridionale del territorio regionale, già messo a dura prova tra frane, smottamenti e blackout. Ore di terrore soprattutto per l'esondazione del fiume Tanagro nel Salernitano. A Sassano famiglie intrappolate dal muro d'acqua, tanto che si è reso necessario l'intervento dei gommoni per mettere al sicuro le famiglie terrorizzate. Sulla Teggiano-Polla invece due auto sono state trascinate in un canale, occupanti messi in salvo. Allerta massima anche nella piana del Sele con i corsi d'acqua che hanno straripato in più punti. Ad Albanella, notte di paura per due ragazze di 26 anni dieboli, travolte dalla piena del fiume Calore, si sono messe in salvo salendo sulla cappotta dell'auto, completamente sommersa dall'acqua. Le due amiche sono riuscite a chiamare i soccorsi che le hanno tratte in salvo. A Napoli invece si contano i danni soprattutto per le forti raffiche di vento. In via Bellini i vigili del fuoco sono intervenuti dopo il crollo del cornicione di un palazzo. Tanto spavento ma per fortuna non ci sono stati feriti. L'area è stata transennata e la struttura messa in sicurezza. La città si dimostra particolarmente fragile. Nell'area nord a Miano, residenti preoccupati per la voragine di via Langella. L'acqua arriva a venare qua. L'acqua ne è dipendente di subvenare. E siamo in ipotecnità. Non posso agire in sicurezza a me. E siamo senza acqua, senza nessuno se ne porto. Ho paura. Nessuno è venuto e ha detto qualcosa. Nessuno ha detto voi state in pericolo, non state in pericolo. Nessuno. Covid risale la curva dei contagi in Campania. 20 vittime, tra cui anche il parroco anticamorra di Ercolano. Don Raffaele Falco sul fronte ai vaccini. Si registra un brusco rallentamento. Rossella Strianese. Ci sono 754 positivi del giorno in Campania, di cui 24 identificati da test antigenici rapidi. I tamponi effettuati sono 8.384, quasi la metà di ieri, il che fa salire il rapporto positivi tamponi al 9%. I morti sono 20. Tra le vittime del Covid di queste ultime ore c'è anche Don Raffaele Falco, il prete anticamorra di Ercolano. Aveva 77 anni, malato da tempo. Aveva contratto il coronavirus nelle ultime settimane. Storico fu il suo mandato all'esercito e le manifestazioni anticamorra quando ad Ercolano infuriava la guerra tra clan. Il sindaco Ciro Bonaiuto lo ricorda con commozione sulla sua pagina social. Iniziò grazie alle parole di quel parroco, quella lunga onda anticamorra che ha permesso alla nostra Ercolano di trovare il coraggio di denunciare, combattere e vincere la sua battaglia contro l'illegalità. Intanto la campagna proseguirà la campagna vaccinale contro il Covid in questi giorni facendo solo i richiami. La decisione della regione è dovuta al brusco calo delle consegne delle dosi vaccinali da parte di Pfizer. In tutti gli hub sono convocati quindi solo coloro che hanno già fatto un'iniezione almeno 21 giorni fa, mentre si farà un centinaio di prime dosi sporadicamente in tutta la regione. I primi rifornimenti sono arrivati all'ospedale Frangipane di Ariano Irpino e all'ospedale Rummo di Benevento. Ogni vassoio contiene 195 flaconi di vaccini da cui si estraggono sei dosi. Per domani è atteso il resto della consegna settimanale per una quota di 25.500 dosi vaccinali a fronte delle 38.000 previste. Irpino, originario di Grotta Minarda, il collaboratore scolastico 34enne è scomparso nel nulla da ieri in Val Camonica. Domenico Carrara ha fatto perdere le sue tracce dopo essersi allontanato per una passeggiata sul Monte Cerreto. A dare l'allarme è stato il comune di Bienno, paese in cui risiede. La Val Camonica in questi giorni è interessata dalla presenza di neve, freddo e valanghe. Carrara ha lavorato anche al Ruggero II di Ariano Irpino e la sua famiglia risiede a Grotta Minarda. Lo stanno cercando carabinieri, vigili del fuoco, guardia di finanza, volontari ed esperti del soccorso alpino istituita da stamane l'unità di crisi ma al momento di Carrara. Nessuna traccia. Sono 38 i casi Covid registrati in provincia di Avellino su 577 tamponi analizzati nelle ultime 24 ore. Un decesso al Moscati. Si tratta di una 95enne sotto controllo invece il Covid nel carcere di Bellizzi. Si vediamo con Paola Iandolo. Il Covid in Irpinia comincia a preoccupare soprattutto nella popolazione scolastica. Diversi sono i giovani ma anche i bambini infettati. Molti sindaci infatti hanno ritenuto di non riaprire le scuole dove è più allarmante la situazione sanitaria. Il bollettino di oggi intanto riporta anche un decesso. Si tratta di una 95enne di Monteforte Irpino ricoverata dal 22 gennaio e sono 38 i casi registrati nel bollettino odierno su 577 tamponi effettuati. Al momento al Moscati sono ricoverate 32 persone e 8 delle quali in terapia intensiva. Monitorata la situazione sanitaria anche nel carcere di Avellino. Sotto controllo i casi Covid ma mancano le figure professionali dichiara il garante dei detenuti della Campania, Samuele Ciambriello, che questa mattina ha consegnato libri alle donne recluse. Mangano figure sociali di competenza dell'ASL. Penso un psicologo, una psicologa, penso uno psichiatra. Io oggi ho incontrato diversi detenuti con problemi anche di ordine psichiatrico. Uno di loro è uscito dal carcere per una visita specialistica fuori e poi con mia sorpresa io continuo un po' a sentirmi ferito quando vedo che un campo sportivo è inutilizzato. In questo anno di pandemia ci sono stati 3 detenuti contagiati e 13 operatori contagiati. Attualmente il 14esimo è fuori lavoro. A Benevento ancora 3 decessi per Covid e contagi in aumento. Ci sono 13 poliziotti positivi in questura. Intanto nel sanno è polemica per l'omelia di un parroco che a Paduli ha utilizzato espressioni molto forti contro la scienza e i vaccini. Sentiamo Fallarino. Ancora morti nere parti Covid dell'azienda ospedaliera San Pio di Benevento dove non ce l'hanno fatta a vincere la loro battaglia contro il virus un 66enne Sannita e due pensionati della provincia di Salerno che erano stati ricoverati nel capoluogo. Numero dei ricoveri sempre in aumento nonostante le dimissioni. Screening e sanificazione all'interno della questura di Benevento dopo che 13 agenti sono risultati positivi negli ultimi 10 giorni. Continuano intanto le polemiche dopo che il parroco di Sant'Arcangelo Trimonte chiamato a sostituire il sacerdote della parrocchia della chiesa madre di Paduli ha pronunciato domenica parole che farebbero intendere una sua posizione no vax contro vaccini e scienza. Il sindaco di Paduli ha immediatamente preso le distanze e chiesto provvedimenti per il sacerdote. Sicuramente è un fatto abbastanza grave. Io spero che il parroco volesse esprimere altri concetti e quindi praticamente che si sia espresso male. Comunque credo che sia effettivamente grave perché i vaccini sono l'unica salvezza che noi abbiamo un'unica arma per poter combattere il contro. Credo purtroppo che il parroco vada rimosso. Vanno presi dei provvedimenti serio soprattutto perché è offensivo nei confronti dei deceduti, dei loro familiari. Tre decessi anche nel Salernitano dove crescono i contagi a contursi terme positivi quattro carabinieri in servizio in caserma mentre caos nell'agro, file e disagi a Nocera per lo screening al personale scolastico. Sara Botte. Non si fermano i decessi di persone affette da Covid-19 nel Salernitano. Lutto a Roccadaspide e a Vibbonati per la scomparsa di due cittadini entrambi ricoverati in ospedale a Benevento. Mercato Sanseverino piange una donna morta all'ospedale da Procida di Salerno. Continuano a salire anche i contagi. Quattro carabinieri in servizio alla stazione di contursi terme sono risultati positivi al tampone. I militari si trovano in isolamento domiciliare. La caserma sottoposta a sanificazione resta aperta e funzionante. File e caos nell'agro a Nocera inferiore. Per gli screening al personale scolastico 100 le persone convocate tutte allo stesso orario. Mentre c'è preoccupazione a Salerno per la mancata chiarezza sui dati in città da parte del sindaco. In seguito alla riapertura delle scuole a denunciarlo è il capogruppo consigliare della nostra libertà Antonio Cammarota. Allarme anche per i focolai sviluppatisi nelle case per anziani a Novivelia, Capaccio Pestum e Sant'Arsenio. Qualche rapporto esterno non controllato hanno determinato questa difficoltà estremamente complessa. Nonostante la delicatezza della situazione che si è venuta a determinare voglio però tranquillizzare la pubblica opinione e l'intera cittadinanza che sono scattati immediatamente i protocolli. Le mani della criminalità organizzata sui porti della Campania è l'allarme lanciato dall'Associazione Libera e dal gruppo Abele per gli scali di Napoli e Salerno. Un SOS che fa riferimento alle analisi della Direzione Nazionale Antimafia nelle quali il porto di Salerno è indicato 11 volte e quello di Napoli 10. Preoccupazione soprattutto sia per la criminalità che si è infiltrata nell'economia legale che per i traffici illeciti a cominciare da quello degli stupefacenti. Sotto i riflettori finiscono soprattutto i prestanome che imbarcano, trasferiscono e distribuiscono la merce in tutto il mondo. I porti, si legge nella nota di Libere e Gruppo Abele, rappresentano un'opportunità unica per i gruppi criminali di ottenere profitti e rafforzi ai legami di collusione sia a livello locale che internazionale. Apre l'Antiquarium di Pompei, negli scavi finalmente il suo museo, dice il direttore Massimo Sanna. Una storia straordinaria che potrete conoscere direttamente nel sito. E mercoledì sul tema della ripartenza della cultura nella nuova puntata dell'altra campagna faremo tappa al Museo archeologico di Napoli con il direttore Paolo Giulierini. Intanto sentiamo Simone Tagli e Pariello. Riapre al pubblico l'Antiquarium di Pompei, spazio espositivo che da oggi accoglie con un allestimento permanente i reperti provenienti dal sito archeologico della città distrutta dall'eruzione del Vesuvio del 79 d.C. Un racconto visivo per oggetti e manufatti che introducono alla visita del sito svelando ai visitatori storia e cultura della società pompeiana a partire dall'età sannitica fino alla sua tragica fine. Finalmente avere un museo a Pompei significa avere un'introduzione alla sua lunga storia. L'idea che abbiamo avuto con i curatori è quella proprio di avere un percorso cronologico, di un percorso attraverso la storia di Pompei che si interrompe improvvisamente nel 79 d.C. Quindi l'ultima sala è quella della distruzione e abbiamo cercato di riassumere quello che è significato la distruzione. Realizzato tra il 1873 e il 74 da Giuseppe Fiorelli negli spazi sottostanti la terrazza del Tempio di Venere l'Antiquarium nasce come spazio espositivo per custodire i reperti provenienti da Pompei compresi i calchi delle vittime dell'eruzione. È l'immagine di tutta la città che è anche più visibile e anche più visitata negli ultimi anni. Praticamente io credo che da oggi si inaugurerà una nuova stagione tra il Comune e gli scavi di Pompei per poter rimettere in moto il motore di quelli che sono i grandi eventi. Inaugurato a Napoli il nuovo canile municipale di Via Janfolla, il sindaco dei Magistris parla di segnale di grande civiltà. Accoglierà oltre 100 animali abbandonati il nuovo canile municipale e la collina di Argo di Via Janfolla. Struttura inaugurata alla presenza del sindaco Luigi De Magistris che ha evidenziato l'importanza dell'iniziativa attesa da tempo a Napoli. Adesso diviene finalmente funzionale. È un'opera che abbiamo cominciato a realizzare un po' di tempo fa ma oggi è abitata dai suoi naturali e abituali abitanti che sono i cani. Ed è un segnale di grande civiltà in un momento in cui c'è bisogno di segnali di vita importanti. Questo è un segnale di vita significativo di una città come Napoli che non lascia indietro nessuno. Una struttura destinata ad ospitare anche numerosi eventi dai percorsi di pet therapy e laboratori didattici per i più piccoli. La collina di Argo è un servizio che viene pensato per la città nell'ambito di un progetto di salute per costruire questa cultura appunto di equilibrio e di attenzione al mondo degli animali. La collina di Argo è stata pensata proprio come un centro di lavoro e anche un centro per l'accoglienza dei cani senza casa ancora. Ma il complesso di circa 600 metri quadrati con 37 box oltre ad un ampio spazio esterno dovrà rappresentare soprattutto luogo di transito per gli animali ospitati. Il canile segue sostanzialmente il modello di canile dinamico, quindi un luogo deputato al recupero psicofisico degli animali ospitati in vista dell'adozione. Ora parliamo del turismo religioso. La sfida dell'Irpinia è quella di un distretto turistico dell'Appenino Meridionale con una rete regionale dei santuari, da Monte Vergine fino a Pompei. Vediamo. Un impulso allo sviluppo degli Irpinia attraverso il recovery plan che passi attraverso la salvaguardia della natura e la promozione del turismo religioso. Protagonisti due grandi parchi provinciali, quello del Partenio e quello dei Monti Picentini. Spunti di discussione utili al tavolo istituito dall'amministrazione di Palazzo Caracciolo. Franco Iovino punta su una greenway dei santuari che da Monte Vergine tocchi Santa Anastasia e arrivi fino a Pompei. La ciclovia che collega Pompei con Monte Vergine per cui c'è un tratto che attraverso la grande attraversata del Partenio che parte da Monte Vergine attraverso i sindi e arriva a San Felice a Cancello. Da San Felice a Cancello attraverso una strada ferrata abbandonata delle RFI, delle ferrovie dello Stato, arriva fino a Torre Annunziato. Il tratto San Giuseppe e Vesuvianato lo stanno realizzando, da qualche giorno sono partiti i lavori, per cui noi pensiamo alla fine di creare questo attrattore con l'obiettivo di creare un distretto turistico dell'Apenino meridionale. I picentini guardano invece alla sentieristica del parco per valorizzare le grandi sorgenti presenti sul territorio. Abbiamo affidato ad un olandese un progetto per il cammino delle acque, che è un progetto anche realizzato con fondi del parco dei picentini, per tenere insieme le grandi sorgenti del parco dei picentini e farle conoscere con un cammino. Sono iniziati i lavori per la realizzazione della rete fognaria Annocera Inferiore, un progetto che porterà benefici anche al fiume Sarno, come sottolineato dal vice governatore Fulvio Bonavitacola. Noi sentiamo Filippo Notari. In tanti Annocera Inferiore la considerano un'opera storica in quanto attesa da decenni nella città dell'agronocerino sarnese. Hanno finalmente preso il via i lavori per la realizzazione della rete fognaria. Il simbolico taglio del nastro è avvenuto in via Matteotti, zona del centro nella quale ricade il primo dei tre lotti previsti dal progetto, che avrà un costo di 3 milioni e mezzo di euro. L'opera è stata finanziata dalla regione Campania, mentre la società Gori è l'enti appaltante che ha portato a termine la procedura. Il progetto ha un importo complessivo di 16 milioni di euro e una volta terminato consentirà di gestire meglio i reflui, riducendo l'impatto inquinante sui corsi d'acqua. La realizzazione del sistema fognario Annocera Inferiore in particolare potrebbe comportare benefici notevoli, soprattutto per portare avanti l'opera di disinquinamento del fiume Sarno. Noi dobbiamo far tornare il Sarno, quello che era un tempo, a quello che io ho visto con i miei occhi alle sorgenti, disinquinando i suoi affluenti, che sono le ragioni del collettamento di reflui e di fattori inquinanti che poi il fiume è costetto a ricevere. Fare le fognature significa questo, portare i reflui dove devono andare, non nei corpi idrici, poi ce li troviamo oltre che nel Sarno anche sul litorale. È tutto per stasera, grazie in regia a Michele Urciuolo, vi lascio alle previsioni del tempo e vi auguro una buona serata. Arrivederci. Grazie a tutti. Grazie a tutti.